buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la rassegna stampa di oggi che è otto giugno vi dico subito che eh non è una rassegna stampa semplice infatti abbiamo cominciato con un po' di ritardo perché ci sono tante cose con le quali diciamo oggi fare i conti da Salvini che incontra Draghi ehm tutto il tema ancora vaccini ripresa e compagnia bella marca e molte cose sulla giustizia e anche notizia di raga natura ora vorrei aprire con il la la tristissima notizia per quanto mi riguarda veramente ehm sconvolgente della morte di Epifani che è avvenuta nella giornata di oggi lo ricordano con più o meno attenzione ma devo dire con una certa attenzione tutti i giornali dal eh Corriere della Sera che lo mette in prima pagina addio Epifani il laburista con Dario Di Vico ma anche eh la Repubblica eh che ehm che lo mette anche se in prima pagina aveva settantuno anni addio Epifani leader gentile del sindacato eh la stampa addio Epifani una vita tra sindacato e politica con lui la CGL restò sempre autonoma dai partiti insomma è così ma c'è un riconoscimento anche da parte dei giornali della destra Epifani l'anticomunista CGL che guidò i DEM e li molò è il giornale e insomma ehm insomma notizie che ci sono la notizia purtroppo è una notizia che sta eh su tutti i giornali non è purtroppo perché sta su tutti i giornali è purtroppo perché davvero ehm è una una mancanza improvvisa e e che fa veramente male eh vabbè d'altra parte questa è la vita passiamo rapidamente con eh i vaccini così poi vediamo l'epidemia passiamo alle cose del governo e poi passiamo alla politica oggi sono parecchie cose anche di politica vaccini Corriere della Sera pagina cinque e sei figliuolo l'ottanta per cento degli italiani vaccinati entro il trenta settembre i nuovi casi ci dice il Corriere della Sera ehm ehm i nuovi casi eh ieri sono stati mille e ieri sono stati mille settant' tre e il dato di contagio più basso la quindici settembre le vittime sessantacin ehm e poi se il commentario basso c'è lo sì Fabio Regli questo era lo 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 grossi no? Mentre invece Pedro Sapelli fa un dossier dalla Campania a Trento ecco quando in ogni regione ci sarà l'immunità di greggio e le stime la prima al traguardo il venti agosto l'ultima il quattro ottobre. Oh poi ehm Silvia Turin appia pagina sei si resta immuni per un anno e un terzo richiamo sarà necessario l'ipotesi è che servirà una nuova dose e le incognite sui tempi e sul ricorso ai nuovi preparati antivirus. Questo è quello che ci dice il eh Corriere della Sera a proposito dei vaccini in Italia eh ehm segna sul giornale a pagina tredici voglio segnalarlo perché è stato sempre attaccato e quindi eh vale la pena metterlo in evidenza bravo bravi giovani ora ballate ma solo con il green pass chi parla è Massimo Galli l'infettivologo del sacco che dice campagna gonfie vele per gli over sessanta scettici no all'obbligo si ai prendi così il eh giornale. Da ultimo voglio segnalarvi Libero che mette in evidenza due cose innanzitutto è vero l'avamo notata anch'io questa cosa ieri. Figliolo Piccona Arcuri il generale non perdona i no militare prima ci ha fatto risparmiare 180 milioni e l'ho detto alla grande insomma è la botta che ha detto non si può mettere nel rendimento di questo commissario le cose che sono state fatte dal precedente in qualche modo ovviamente prendendo le distanze dal precedente poi c'è un altro dopo Galli c'era sapete Crisanti che è uno che è sempre stato molto scettico non perdona Francesco Specchi a pagina 5 di Libero, Crisanti fa paura spiare gli italiani 24 ore al giorno il virologo dice bisogna geolocalizzare chi entra in un luogo pubblico stadio, cinema, ristoranti e chi parla di diritto alla riservatezza risponde la privacy va abolita tanto le multinazionali sanno già tutto di noi l'Italia dice come nei regini insomma non lo pensa soltanto il fratello d'Italia ma ormai Crisanti ci ha abituato da Corriera Sera voglio segnalarvi però anche il tema dei vaccini non in Italia in particolare il tema dell'Africa Africa nuovi casi e niente vaccini il primo vaccino l'arriva è errata e arriva la terza questo è denuncio il tema dei casi poveri è stato detto del Consiglio d'Europa è stato oggetto di valutazioni americane e via dicendo ma resta un tema assolutamente aperto dalla Repubblica vi segnavo a proposito di virus che prosegue diciamo l'informazione da dove nasce questo virus l'intervista che Andrea Joim fa a Davide Ascher che ha diretto l'inchiesta USA sulle origini del SARS-CoV-2 i Xi copre la fuga del virus dal laboratorio di Wuhan credo che le autorità cinesi abbiano tentato di controllare un incidente avvenuto in città nell'ottobre 2019 e non ci siano riuscite quindi la tesi americana sul fatto che questa roba nasce in laboratorio continua a essere sposata anche da Repubblica bene passiamo allora alle questioni abbiamo già finito per fortuna sulla pandemia sulla diffusione del virus e vi dicendo passiamo adesso alle soluzioni quelle economiche allora appartiamo subito la soluzione di potere che a pagina 5 dice che con Giorgio Santilli piena l'estracracità solo così debito PIL tenderà è la fondazione pubblica che parla il rapporto una visione lunga oltre il tempo del nuovo di vari motori endogeni e le potenzialità inespresse simulazione sul debito di Altomonte e De Felice ed è una pagina molto interessante perché si fa vedere come la sostenibilità del debito può avvenire nel lungo termine solo 24 ore a pagina 5 uno dei temi centrali come sapete è il blocco dei licenziamenti a questo dedica ancora due pagine Repubblica la 4 e la 5 su licenziamenti PD e 5 Stelle aprono il governo va verso lo sblocco selettivo risposte positive alle richieste dei sindacati di prorogare la sospensione ma non avverrà per tutti Confindustria dice noi vogliamo assumere e poi c'è Durigonna che precisa la posizione della Lega in un'intervista realizzata da Rosario Amato un aiuto solo ai settori in forte crisi la Lega non cambia idea su 480 mila lavoratori oggi in cassa integrazione ma se volete se volete la pagina 5 pubblica che dice Draghi non si orrà a modificare il Parlamento e le dite si impegate a dare non c'è solo in coalizione così la mette la Repubblica anche ovviamente il Corriere da Sera tutti ne parlano certamente il giornale che più dà spazio è la stampa prima pagina il piano per chi perde il lavoro e questo è il titolo di apertura e poi Orlando a pagina 2 con Andrea scusatemi con Carlo Bertini Orlando blocco selettivo dei licenziamenti in arrivo più fondi per le imprese in difficoltà PD e 5 Stelle in pressing sul Premier Alt di Bonomi Franco dice non ci sarà una valanga ma siamo pronti ad intervenire poi se volete c'è una intervista responsabile economico Dedem Misiani nel taglio basso che dice per prorogare ancora lo stop deve muoversi il governo in Parlamento non c'è più tempo e poi c'è il retroscena di Alessandro Barbera Draghi prova una nuova mediazione subito la riforma degli ammortizzatori il Premier non cambia idea ma mette sul tavolo della trattativa anche l'allargamento dei sussidi di disoccupazione così e le informazioni che ci dà la stampa comunque vedete che si sta sicuramente muovendo qualcosa anche il Sole 24 ore in prima pagina che però si occupa diciamo delle imprese non dalla parte dei licenziamenti ma per la mancanza di materie prima allarme imprese carenza di microchip fino a metà 2022 il brusco riasco dei prezzi pesa sulla domanda e sugli scambi commerciali e questo è un altro problema perché certamente nel campo della produzione ovviamente se manca la materia prima il tema non è da poco a proposito del blocco dei licenziamenti vi segnalo a pagina 23 della stampa un editoriale di Stefano Lepri se la politica sente solo chi urla di più dice nessun paese avanzato ha bloccato licenziamenti durante la crisi da covid salvo per un breve periodo iniziale l'anno scorso la Spagna dove c'è un governo di sinistra come ormai è noto in Italia il blocco non ha impedito che circa di lavoro soprattutto per maggiori i nuovi contratti di carne dice lui sulla politica che abbiamo dimostrato un certo attaccamento blocco ora è stato pare che la Lega oltre a forze di sinistra storicamente sono imparate dai sindacati come i 5 Stelle si conferma che abbiamo avanti i deboli che in mancanza di capacità progettuale propria inseguono i gruppi di interesse più robusti e determinati ben inteso la contrapposizione tipica del ventesimo secolo sono in parte superate così tra l'altro Stefano Levy sul stampa che mette in evidenza il fatto che noi siamo sostanzialmente gli unici l'altro argomento sicuramente oggi sui giornali che ha grande spazio è soprattutto sulla Repubblica è il cloud uno scudo anti hacker entro un mese la gara per trasferire i dati di 180 entri strategici in un cloud a prova di incursioni il ministro Colau dice il 90% dei server delle pubbliche amministrazioni obsoleti e insicuri questo è il titolo di apertura della Repubblica che poi a pagina 2 con Riccardo Luna si occupa di questo via cloud nazionale una rete super sicura per gli enti pubblici tra un mese la gara per il polo strategico che dovrà concentrare e proteggere i dati di 180 amministrazioni in concorrenza ai colossi del web Tim Leonardo e Fincantieri e poi Alessandro Piva viene intervistato del Politecnico di Milano viene intervistato da James e da Alessandro e dice ma i nostri dati non vanno regalati e questo è un in propria fondamentale non solo per la sicurezza per la sicurezza programma tecnologica così la Repubblica nelle mette le pagine con il titolo di apertura e visto che stiamo andando di dati c'è il tema della cyber security se ne occupa il sole in 24 ore che dice parte il piano per la cyber security il governo studia uno schermo per i dati che passeranno al polo strategico nazionale alla modalità cloud tecnologie extra web solo su licenza e prepara per luglio la procedura per disegnare il gestore della nuova infrastruttura operativa da metà del 22 il reprovere il plan assegna 900 milioni la gara potrebbe essere riservata con la proposta di un partenariato pubblico privato e poi vedremo insomma con quali società bene chiudiamo anche questo capitolo apriamo il capitolo fisco qui c'è il giornale in in prima pagina che dà una notizia più o meno terrorizzante soprattutto per chi non è pagherà così l'orizio di segnalare il fisco precoce arriva il sistema di monica alle nostre spese e che etichetta come sospetti evasori questo è il giornale in prima pagina volete poi c'è il libro a pagina ottica affronta il tema del fisco e ci dice dopo cinque anni tasse e multe verranno condonate il governo studia l'azzeramento automatico delle cartelle non riscoste per smattire i mille miliardi di arretrato vedete notizie diverse sicuramente questi sono più felici per quelli che hanno diciamo più di cinque anni che non pagano le tasse poi andiamo sul messaggero a pagina che ci dice il tesoro accelera a luglio la riforma della riscossione anche all'agenzia dell'entrata è favorevole alla cancellazione delle cartelle dopo cinque anni ok da leghe forza Italia e cinque stelle se il sistema non funziona più meglio semplificare poi nel taglio basso c'è Franco che dice alzeremo la soglia degli aiuti alle partite IVA e il governo per questo trova quattro miliardi rimanendo sul messaggero a pagina 3 ci si occupa di pubblica amministrazione cambia il lavoro agile fasce orarie più obblighi nella prima bozza del contratto priorità ai genitori per usufruire dello smart working i dipendenti dovranno essere subito operativi in casi particolari e su richiesta questo è quello che ci dice il messaggero a proposito della pubblica amministrazione ma a questo punto viste le cose principali andiamo a vedere che cosa succede nel governo e di questo siamo occupati perché il giorno prima c'è stato l'incontro tra Draghi e Ammoni per i rapporti istituzionali con la nostra opposizione oggi c'è stato l'incontro tra Draghi e Salvini e qui diciamo Marco Cremonesi ci dice riforma e ripresa Salvini da Draghi con il premier totale condivisione l'incontro senza toccare la questione centrodestra credo che il presidente del consiglio non si sa bene il leghista parliamo di Italia non di partiti insomma adesso sembra che facciamo diventare diciamo Salvini una statista quando ha detto una cosa mi sembra abbastanza logica ha chiesto che il presidente del consiglio non è il rappresentante di nessun partito e quindi non si capisce bene che cosa dovrebbe dire sulla federazione del centrodestra sulla quale invece vedremo parlano in molti tra l'altro qui viene anche data la notizia che il compagno della Le Pen passa dal carroccio alla Meloni e come dire le evoluzioni della specie e poi nel taglio basso il retroscena sempre di Marco Cremonesi che dice Tony Soft ruolo da tessitore il disegno del leader leghista per la svolta moderata mobilitazione pro referendum è un'iniziativa a Roma e bisogna dire che che Draghi che scusatemi che Salvini non smette ogni giorno di in qualche modo parlare del referendum ci sarà ora anche una manifestazione adesso ci sta una nota di Franco le convulsioni di un fronte che cercano equilibrio che trovo meno interessante invece del retroscena di Francesco Verderami così cambia la geografia di maggioranza e cosa dice Verderami anche Draghi nel suo piccolo può sbagliare e non solo sulla ripresa economica del paese dato che la crescita come ha spiegato ieri a Salvini supererà di oltre un punto le stime del governo pure le sue previsioni politiche si sono rivelate errate perché nei giorni in cui si insediava a Palazzo Chigi riteneva che i partiti non gli avrebbero riservato una luna di miele invece quasi tutti per ora hanno trasformato l'agenda Draghi in una sorta di testo sacro probabilmente perché come dice il sottosegretario Tabacci le forze politiche in questa fase storica non sono di sviluppare proposte di risteggire così chi è diventato metter l'egregio e il leader va a trovare a trovarlo per dispensa per commentare i loro colloqui ma nella maggioranza cosa sta mutando è mai visibile la differenza tra la postura del centrodestra che si mostra in totale sintonia con l'ex presidente della BCE e l'approccio del centrosinistra e Dalle che sul rapporto con il capo del governo si sta progressivamente sbriciolando e Conte ecco appunto quello non è il centrosinistra informiamo anche Verderami che quella è un'altra roba non è il centrosinistra l'alleanza tra PD e Cinque Stelle e Conte con l'intervista al Corriere ha voluto allargare la crepa l'evento era nell'aria al punto che il ministro Demme Guedini in un colloquio con il foglio fin dalla scorsa settimana aveva dato una sorta di risposta preventiva all'ex premier le riforme le riforme sono più importanti dell'unanimità un modo tutto di ci per avvisare l'alleato e molti suoi vedovi a Nazareno che il PD non può morire per Conte perché il rinnovamento non si può accantonare per salvaguardare una formula politica così perderanno sul Corriere della Sera ma del eh il governo che si occupa tra l'altro a pagina 11 ehm che ha appunto con questa con questo retrosciata eh però anche segniamo il domani in prima pagina il domani già consegna ormai Draghi a centro-destra perché sono così loro Nicola Emberti altro che Salvini il federatore del centro-destra è solo Draghi Lega Forza Italia e Fratelli Italia non hanno ancora un accordo per i candidati alle comunali di Roma e Milano parte dei berluscoliani non tornera il leader leghista l'unica cosa che riunisce è il gradimento per il premier ecco diciamo ehm la risposta a questo il federale potrebbe essere pensa quanto sono fessi gli altri che regalano uno che certamente non è eh di destra eh ed è un liberal democratico invece di ascriverselo e rivendicarlo appunto continuiamo le alleanze progressiste le alleanze verso il futuro con Mento Cinque Stelle che invece bastona sostanzialmente Draghi grande genialità di pensiero e di ragionamento e di strategia da parte di alcuni ehm nell'altra parte della maggioranza è libero a pagina sei asse con Mario Salvini si prende Draghi sarà l'estate del nuovo boom Matteo del premiera su ripresa e riforme c'è condivisione ma il nuovo assetto dell'alleanza resta fuori a Palazzo Vigie questo riguarda le gente interne che vedremo dopo il centrodestra vi segnalo dal giornale che ci si occupa delle eh amministrative con una serie di eh notizie ehm a pagina otto la notizia è che non si trova una quadra nel centrodestra ma in racionale e passa Forza Italia Movimento Cinque Stelle inquisificante un nuovo dice la amministrative io sta lo strappo del segreppellino oggi è medico pensa un po' va bene grande acquisto di eh De Vito mh da parte di Forza Italia e allora veniamo al Movimento Cinque Stelle e qui c'è un po' di tutto andiamo sul Corriere da Sera pagina tredici il sollievo del Movimento con Conte ripartiamo ma Di Battista non torna oh il sollievo del Movimento è perché eh diciamo diciamo molti individuano nell'intervista di ieri a Corriere da Sera di Conte il fatto che si potrebbe rompere il rapporto con il governo il leader e i finanziamenti tutti gli eletti verseranno la quota eh sì diciamo i precedenti non garantiscono su questo oh tra l'altro su Corriere da Sera viene data la notizia che un ex Cinque Stelle come Carelli ha trovato finalmente la sua meta Brugnaro mi ha convinto vado con loro i Cinque Stelle sono finiti così Emilio Carelli che è uscito tempo fa dal Movimento Cinque Stelle che perlomeno ha avuto la bontà di non entrare nei responsabili se non ricordo male anche la Repubblica a pagina tredici si occupa del Movimento Cinque Stelle lo fa a pagina dodici scusate lo fa con con Matteo Cucciarelli nella segreteria Cinque Stelle Conte vuole Di Maio e la Sindaca Pellino il contromovimento di Casaleggio trovati pure l'uso la sua stanza è il sistema ora cambiamo ma senza nostalgie per Beppe e Gianroberto eravamo i granelli di sabbia nell'ingranaggio però nel palazzo abbiamo portato righe e parole molto lontani va bene ragazzi qui stiamo va bene va bene così è tutto meraviglioso oh se non vi basta la Castelli potete beccarvi anche Buonafede e questo lo fate voi a pagina sette addirittura con un richiamo in prima pagina sulla stampa perché insomma gli statisti vanno dati vanno dato il giusto spazio Buonafede intervistato da Andrea Malaguti a pagina sette della stampa sostegno a Draghi senza indebolire l'ANAC il nuovo Movimento Cinque Stelle avrà un'identità distinta dal PD e dice il conticidio è sotto gli occhi di tutti ma non fu un complotto internazionale l'attuale premier ha le qualità che servono tra Conte e Di Maio non esiste nessun dissidio chi lo dice non li conosce i sondaggi ogni volta che ci danno per morti ci portano bene e poi via dice le mie riforme sulla giustizia sono in Parlamento e noi le sosterremo fino in fondo eh abbiamo testato l'affidabilità di Salvini ed è chiaro che oggi abbiamo pochi punti in comune insomma questo è Buonafede che dice le mie riforme sulla giustizia se no aspetta qual è la cosa sui sondaggi insomma dice che è allora ragazzi visto che ci siamo non possiamo prenderci eh Ignazzi che oggi diciamo scopre l'acquacata soprattutto per quello che accade in Italia in Italia i sondaggi non bastano più a prevedere le lezioni e che direbbe quello e il 26 maggio un primario istituto di sondaggio tedesco l'Insa pubblicava i dati sulle intenzioni di voto dei cittadini della regione Sassonia dove si sarebbe votato il 6 giugno le previsioni erano terribilmente fosche per il partito di Angela Merkel la CDU secondo l'Insa infatti la CDU avrebbe ottenuto solo il 25% e sarebbe stata superata dall'estrema destra di AfD la politica berlinese ha trattenuto il fiato per dieci giorni tenendo l'onda nera temendo l'onda nera e la disgregazione dei cristiano democratici invece la CDU ha trionfato con il 36% distanziando di 13 punti l'avversario di destra ha ottenuto lontano anche i verdi che continuano a non sfondare all'est insomma grande scoperta che poi questo lo applica anche all'Italia rispetto a quello che è successo nei sondaggi dal 2013 in poi insomma grande analisi illuminata di Ignazzi per dirci quello che noi sappiamo benissimo magari se lo ricordasse Ignazzi quando parlando di Italia Viva parla di un partitino dell'1% del 2% è tutto valutato sui sondaggi quando magari invece i risultati elettorali pensiamo a quello che è successo in Campania ma non soltanto in Toscana danno dei risultati leggermente diversi ecco un po' di ma dopo il giornale andiamo anche il giornale che il giornale è sempre particolare in fronte del Movimento 5 Stelle contesta truppe non ha neppure voti per correre da deputato Giuseppi teme la candidatura e scappa critica Draghi ma i suoi non lo seguono esatto perché come avete capito avendo capito che era un mezzo trappolone quello del collegio di Prima Valle visti i risultati dell'europea il compagno Conte ha battuto rapidamente la ritirata anche il domani si occupa dei 5 Stelle e non proprio in modo amichevole nemmeno il Movimento crede più nell'ennesima metamorfosi di Conte la fase della maglietta dopo l'addio a Casaleggio è l'ida di Giuseppe che scrive l'ex premier più della trattativa con il Soma i parlamentari rimangono scettici sui nodi che rimangono risolti in primis quello dei soldi per Casaleggio insomma ieri c'è stata questa intemerata su tutti i giornali in chiesa la sera e la gente non pare che non essere riuscito a fare se no non basta può andare sul foglio nella pagina 3 dice una cosa che mi permetto di dire avevo citato ieri in rassegna stampa grillismo smemorato il conte disorientato dai condoni dimentica quelli fatti dal suo governo nella prima intervista a Corriere della Sera dice il disorientamento dei cittadini per alcune decisioni del governo tra queste il condono fiscale l'ex premier fa evidentemente riferimento a una parte del decreto sostegni che prevede la cancellazione eccetera eccetera dice né per lei né per lei ci sono condoni da denunciare si tratta di pulizia del magazzino fiscale come per l'ex avvocato del popolo che invece di condoni ne ha firmati tanti più di uno per governare con la Lega nel 2018 adottò il famoso contratto di governo che prevedeva la pudicamente definita pace fiscale nel 2019 sempre con Matteo Salvini vice premier parola annullamento d'ufficio delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro dal 2000 al 2010 ma anche il condono a sanzioni di interessi per debiti fiscali e contributivi il saldo a straggio ma poi appunto e poi dice appunto che già a novembre del 2018 il quotidiano aveva inserito una norma voluta dai 5 stelle che sanava gli abusi edilizi commessi ad Ischia ecco non mi ero sbagliato era Ischia insomma il foglio se l'è ricordato se l'è ricordato anche voi bene allora sul 5 stelle ci sono due editoriali che voglio leggervi sulla stampa c'è Panarari che in reazione alle possibili distacco dal governo non ci va molto leggero e cosa dice Panarari le ambi le conte eviti le ambiguità non vi è dubbio che già il momento che ha fatto il sistema ha mostrato con la sua governista la volta di responsabilità e il tipo di lo scoposto dell'ismo popolitanista si trova di fronte al mini pedio ed è stato tracciato in qualche modo la casella di partenza è stato ricacciato in qualche modo la casella di partenza di Magma 5 stelle da cui archiviare per sempre le vellità di partito della nazione potrebbe non di meno scatuire l'occasione di un big bang positivo per il sistema politico italiano in transizione dalla metà degli anni 90 ovvero una finestra di opportunità per consolidare un partito di establishment irrazionale capace di concludere un percorso che lo allontani per sempre dalle sirene acchiappavoti populisti e del neoplebiscitarismo messo in scena dalla piattaforma Rousseau la crunadago della digitalizzazione dei partiti come la chiama il politologo malucarista è stretta impervia ma oggi indifferibile i 5 stelle vi erano comunque avvicinati per primi in Italia malagoratamente però a leggere l'intervista di Giuseppe Conte al Corriere della Sera la conclusione dell'odissea legale surreale con Casaleggio non sembra essere stata molto di lezione le sue parole infatti risuonano come una chiamata alla guerriglia dentro il governo Draghi segnale della perseveranza dell'ex premier nell'ascoltare cattivi consigli e verrebbe da pensare nel coltivare un disegno di destabilizzazione dell'operato del presidente del consiglio in carica e non aiuta sicuramente la serenità generale dell'interrotta circolazione delle mitologie revanciste della vittoria sul covid mutilata e della fantasmomagorica scusate cospirazione che avrebbe fatto cadere il conte 2 chi invece è caduto da solo che invece è caduto da solo a causa dei propri errori e dell'incapacità di fronteggiare la crisi se il nuovo corso pentastellato perseguirà questa linea politica conflittuale ispirata a una malintesa vendetta del contismo nei confronti del draghismo e non sceglierà la giusta e doverosa lealtà insieme ad un esecutivo di cui è forza maggioritaria incrementerà ancora di più le fibrillazioni interne e creerà ulteriori problemi all'alleanza col PD e soprattutto finirà per produrre instabilità in un paese che sta faticosamente cercando di risollevarsi dalla catastrofe pandemica anche perché l'utilità della riproposizione di una pelosa ambiguità rimane è tutta da verificare sul piano dei consensi ma di certo consacrerebbe il contismo come un ennesimo capitolo del purtroppo denso libro nazionale della politica del rancore così l'Efri c'è un altro che si occupa della della scusate della dei 5 stelle scusate scusate ah ecco qui sì è saluto sulla prima pagina di Libero che la mette così finiscono insieme i blef di Conte e De Grillini di fatto il grillismo finisce e anche anche in strada non l'ho mostrata facendo dicono che è una prima scossa che deve essere cittadale per non precedere il termine di un'identità che all'ombra di un governario sarebbe impossibile di cose comprensive in questi anni nel caduto di tante ma ci credo facile che Conte sia dei spessi di Draghi sia della sete di potere e di poltrone di Di Maio e soci Conte fino a ora si è mosso prima telecomandato da Di Maio e Salvini primo governo poi a colpi di decreti presidenziali emanati protetto dallo scudo dell'emergenza covid dal prestigio di Palazzo Chigi e dalle furbate mediatiche di Casalino insomma era pur sempre un presidente del consiglio ora non ha privilegi né alibi né fossati a difenderlo dei discorsi forbiti e dello stile sobrio elegante i suoi non sanno che farsene così come chi se ne frega della cantilena quotidiana di Travaglio su quanto lui sia stato bravo bello e buono quanto generali siano state le sue intuizioni straordinarie i suoi risultati tutte balle ovviamente altrimenti sarebbe ancora in carica da oggi Conte torna ad essere un cognome non più un ragno non più un rango uno dei tanti cognomi che affollano la politica e i talk show televisivi con un problema in più rispetto ai suoi competitori i grillini così e salusti sulla eh sul mh sul sull'Ipero eh per quanto riguarda il PD voglio segnalarvi il foglio che ha due interventi un colloquio del direttore Cerasa con Bertinotti a cui piace Letta a Bertinotti non dispiace Letta la trasformazione del PD nel partito di Picchetti avrà l'effetto di far piangere i ricchi o i vecchi elettori dem tasse economistiche che ha svolto il che era spinta con un che non si capisce non mettere su un foglio che però qui ha posizione che è quella di Zanna che è sicuramente parlato del PD Unisca e Forniti da Renzi per Zanna come non scriverà se volete lo trovate nel colloquio con l'ex capogruppo del PD Zanna lasciamo il PD occupiamoci del centro perché per quanto riguarda il centro voglio segnalarvi soltanto il giornale perché fa una considerazione che risponde in qualche modo anche ad alcuni articoli che ci sono stati nei giorni scorsi il centro esiste solo se i democratici ne stanno lontani cosa dice Macioce il centro forse esiste non sono quasi 30 anni che nessuno ma sono quasi 30 anni che nessuno riesce a trovarlo il centro come casa politica di chi si sente alternativo al centro-destra al centro-sinistra il centro del centro il centro che ogni volta cambia oggettivo moderato liberale riformista post-democratico o tutte queste cose insieme c'è chi lo ha inseguito tutta una vita ma appena prova ad afferrarlo si ritrova in mano poche briciole pochi voti e senza peso è la terra dei piccoli dei piccoli troppo leggeri e per i gatti non c'è la vita non si attraggono il centro finché assomiglia a una logia che calendano alcune tendere di lasciarsi scordare convinti che questo sia il tempo giusto e la sua scommessa è la prima che tra vuoi metterla a Roma chiedendo su come sindaco è un segno e poi lì o in parallelo si può immaginare una federazione lo chiama fronte repubblicano è una sorta di barriera non è importante infatti chi deve stare dentro ma chi è fuori è un altro caso di anti-identità il frangiflutti è contro la Lega Fratelli d'Italia e Cinque Stelle li definisce sovranisti e populisti tutti gli altri sono benvenuti renziani pezzi spazi di Forza Italia radicali liberali Labonino Rotiani Sala Gori e gli altri sindaci Dem alleati con chi Calenda per abitudine guarda a sinistra e cita il PD è un vecchio errore Pannella per esempio lo sapeva bene se sogni di fare il battitore libero è meglio stare lontani dalla grande chiesa della sinistra non ti riconosce il PD è disposto a dialogare alleazzi con i Cinque Stelle in salsa Conte ma azione come Calenda ha battezzato il suo partito è indigesto non solo e andiamo a pagina 6 per vedere la parte che ci interessa ancora di questo editoriale non crede nella federazione repubblicana ma la considera velletaria qualcosa che si liquida scrollandosi le spalle c'è chi come Toti che lo invita a guardare altrove sarebbe più facile cercare a rispondere a destra ma è già stato segnato il confine mai con Salvini mai con Meloni e loro d'altra parte non potrebbero stare con Sala e Gori quindi il centro deve scavare a centro magari è nella profondità e non nel raggio la soluzione del mistero è dire chi siamo non siamo un cambio di rizzonte per realizzarlo non basta cambiare di quelli che sono smarrati alla ricerca del centro si sono preoccupati per la scatola è un'illusione è l'abitudine a pensare che si metti sul loro contenitore qualcosa sarebbe invece un disagio immaginare dei contenuti poi una scatola in qualche modo la si trova così tra l'altro ma ciò sul giornale andiamo avanti centro-destra va bene allora non problemi con la federazione si al Corriere della Siera pagina 12 chi ce lo dice centro-destra saltano tutti i summit nodo federazione congela le scelte in Forza Italia l'attacco di Gelmini e Carfagna Berlusconi prende tempo sul progetto è Paola Di Caro che ce ne parla stessa questione viene con un approccio diverso ma il tema è lo stesso affrontata anche da Repubblica che dedica due pagine al centro-destra pagina 10 i governi i governisti di Forza Italia fermano Salvini la federazione ora è più lontana e poi Tommaso Ciriaco a pagina 10 e poi Emanuele Lauria il retroscena la rivolta spaventa Berlusconi Matteo è meglio rallentare nella telefonata tra i due leader la presa d'atto della necessità di un cambiamento di rotta alta tensione in Forza Italia saltano i video incontri del Cavaliere con i coordinatori e parlamentari e insomma anche Forza Italia non se la sta passando benissimo in questo momento d'altra parte andate sul tempo che ha questo titolo in prima pagina no Giorgia no Parti ed è Franco Becchis che scrive dove la tensione in Forza Italia sono i primi sottaggi non la capiscono senza l'Italia andiamo avanti perché a questo punto sono tre cose da leggere Folli la Repubblica la giornata si occupa esattamente in proiezione diciamo o meglio con uno sguardo europeo il patto di Salvini e Vivi in Europa tra l'altro Steve Folli ancora di recente l'ex ministro dell'interno ha cercato di promuovere non si sa con quanta convinzione una sorta di internazionale conservatrice senza in apparenza rendersi conto della questione di fondo vale a dire che il problema non è arginare Giorgia Meloni in Europa quanto colmare le contraddizioni tra Lega tra la Lega che in Italia cerca l'intesa con Berlusconi uomo del PPE e la stessa Lega alleata oltre confine di forze opposte ai popolari si tratta come è noto di formazioni contro cui la cancelliera Merkel ha combattuto senza trega in quanto minano alla base il blocco sociale e i consensi su cui si legge il popolarismo ora è vero che Salvini di recente ha un po' attenuato il rapporto con l'estrema delta di ADF ma come si dice in questi casi troppo poco e troppo tardi semmai il partito o la federazione addirittura il partito unico con quel che rimane di Forza Italia prenderà forma non è pensabile che i due contraenti si assestino su posizioni divergenti in Europa o che resti una riserva mentale da parte dell'eghista d'altra parte il passaggio di Salvini dalla sponda cosiddetta sovranista alla riva di una sostanziale ortodossia europea simboleggiata proprio dal PPE non sarebbe indolore comporterebbe un'adesione al disegno sempre coltivato da Giuggetti e Zaie ma contrastato dal leader che ha inseguito per anni il miraggio di un'unione diversa da quella di Bruxelles così Fogli sul pagina 25 di Repubblica ma poi c'è anche i timidi della destra e i richiedi del futuro politico che insomma è stato costruito e poi quello che ha prodotto la destra negli anni sporsi queste pulsioni in faccia centrosinistra non ha potuto né saputo prestare attenzione se non tentando un'alleanza con il più debole dei contenitori dello scontento il Movimento 5 Stelle mentre le destre e quindi fa un paragone tra quello che rispetto alla situazione Covid e quello che c'è stato le tensioni nel popolo e via dicendo di come si è comportata la sinistra centrosinistra il rispetto al centrodestra e poi dice la possibilità di una loro affermazione dalla destra dice elettorale pone oltre tre ordini di problemi uno più grave dell'altro il primo è la rivalità fra le due destre che è una delle cause delle loro difficoltà a individuare le candidature per le amministrative d'autun che proseguiranno nel tempo il secondo è costituito dalle non impeccabili credenziali democratiche di una parte dei sostenitori di Trattelli d'Italia un partito al quale inoltre manca con poche eccezioni una classe dirigente sperimentata il terzo infine è una contraddizione strutturale come si vede dal rapporto molto interessato che continua a intrattenere con Forza Italia nessuna delle due destre potrà permettersi in un'ottica di governo soprattutto se Arturinale cederà a un convinto europeista di ignorare i vincoli esterni dell'Unione Europea e dell'Euro un'evoluzione verso il modello CDU CSU partito conservatore ordo liberista è quindi possibile soprattutto da parte della Lega mentre Fratelli d'Italia potrebbe essere più attratta dagli esempi di Polonia e Ungheria beh è già attratta due paesi interni alla UE ma a differenza del nostro esterni all'Eurozona le destre in ogni caso dovranno scendere a compromessi difficili da far digerire una parte dei loro elettorati costretti a ingoiare logiche e poteri non amati una frustrazione che cercheranno di venire con risarcimenti simbolici come politiche identitarie di non altro profilo e normative improntate a esclusione e a repressione le contraddizioni delle destre dal governo si iscrivere sui società e su un problema sociale a tendere suzione nel paese e si rivedere una volta più la natura profonda della re a presentarsi con una satorne ed esportati di non film questi sono i primori che mette in capogalli a cui risponde invece Ferrara con un appassionato articolo pro Salvini indagine sul miracolo di Salvini tra l'altro dice Ferrara il letto del centro-sinistra per essere gentili con i rimasugli dei gridini compresi nel prezzo è fatto di incremento della litigiosità di verbi notariri corrisione della leadership ovunque se ne avanzi anche la minima pretesa scemenze picchettiane sfortunati cacciavite tasse diritti civili e l'idea pazzotica di rendere protocollare bella ciao una bella canzone che andrebbe affidata al vento e alle vibrazioni popolari libere poi c'è il centro propulsore liberale vabbè non ne parliamo nemmeno c'è poco da recriminare pubblico e consenso sono garantiti almeno a propaganda live non è sicuro che basti questo è diciamo il valore che Ferrara dà alla proposta dei riformisti ma vabbè il fattore di gran lunga nuovo dice Ferrara e di rimente è la destra rampante come se è stato possibile non si sa bene fatto sta che lo scampato del papete del governo populista del 2018 epoca torbida e minacciosa sia infiltrato e trasfigurato e con buon successo almeno per ora Fregoli trasformista delle scene è la nuova divinità Salvini a Giorgetti il ministro più draghiano dei draghiani un aggiunto alla quadriglia dei tecnici onnipossenti a consiglieri che i draghi lo volevano carcerare letteralmente i resuiti della prosopopea devozionale con la Madonna di Fatima si sposano con la retorica della giustizia giusta e del referendum radicale un approdo curioso perché aveva messo in scena la giustizia esornativa cacciarona e propagandisticamente belluina con l'accoglienza indivisa del terrorista Battisti in Europa sta per giocare la carta popolare con l'ammissione dolce di Berlusconi ma non rinuncia a frequentazioni assidue del bordello estremista e illiberale e conclude Ferrara Salvini e ovunque fa copolino perfino nel dossier sindacale per il blocco dei licenziamenti sblocca e blocca come piace a lui con il consenso di Letta Junior che lo ha trovato un uomo vero tra virgolette i contatti con il premier sono autorevoli e ripetuti sarà la guida di uno schieramento competitivo ma è in grado di funzionare come un portavoce della stabilizzazione dell'unità nazionale non ha dovuto sacrificare all'euro tendenza che sembrava per la verità in contrasto con il neopopulismo assolutamente nulla il letto di Salvini è una nuova trasversalità ballerina chi glielo abbia fatto chi glielo abbia fatto non è chiarissimo sicuro è che sarà lui ad accucciarsi in una situazione che adesso appare confortevole in un certo senso pace alla fine l'abilità conta come contano le disutilità degli avversari un profilo di governo e di parte se ordinariamente legittimato dagli elettori è certo meglio dell'avventura forcaiola e xenofoba che aveva portato l'Italia alla sparatoria di Macerata e dell'assalto ai barconi e del collasso democratico con un ministro dell'interno fanfarone e iperattivistico su spiagge inondate di Moito in fondo c'è il motivo di essere ottimisti il pregolismo dell'elite è meglio del popolismo straccione ma di certo miracoli della politica sarebbe bene farsi per tempo un'opinione e cercare di avere cause così Giuliano Ferrara chiudiamo anche questo capitolo sul centrodestra vi voglio segnalare sul messaggero non ho proprio tempo di leggerlo ma insomma c'è un editoriale di Caravita sul tema delle riforme costituzionali a pagina 24 se non erro è un grande accordo di riforme istituzionale c'è altra della vicenda di responsabilità delle forze politiche ciò supportate dalla sede del paese su messa iniziativa di assenso istituzionale basata su tre punti fondamentali che viene in pressione di due camere nonché uscite dal referendum del settembre duemilaventi in un'unica assemblea nazionale affiancata a un meccanismo di rappresentanza al centro del sistema delle autonomie e il rafforzamento della stabilità del governo attraverso l'introduzione della sfiducia costruttiva e l'inserimento di una causa di supremazia dell'interesse nazionale rispetto al legislatore regionale queste sono le tre cose come sentite per chi si è impegnato sui referendum del 2016 se non erro sono cose che sono un po' ripetitive ma così oh bella ciao qui non posso immaginavo che sarebbe successo questo allora pagina 24 di Repubblica Maurizio Maggiani giù le mani da bella ciao vi prego vi supplico vi imploro la mia testa sotto i vostri piedi onorevoli Fragomelli Verini Boldrini Effiano Stumpo Ansaldi e Sarli distogliete lo sguardo nubilate il pensiero e ritirate le vostre mani manine e manone da bella ciao non vi chiedo che un gesto di generosità cosa che altro cos'altra posso fare per voi oltre a umiliarmi e annichilirmi ditelo e lo farò ma lasciatemi questa musichetta questa piccola romantica dolcissima canzone in soviale da lì avete potere di se non vi piace fare la luce fare il favore e aprite il castello giusto e sfilati alla proposta di trenta trenticinque questa è la posizione di Maggiani sul Repubblica e l'opposto addirittura diciamo rilancia invece Camon sulla stampa pagina ventitré Ferdinando Camon parte l'idea che Bella Ciao venga cantata il 25 aprile dopo l'inno di Mameli lo trovo una bella idea a noi italiani non può che far del bene per me Bella Ciao non dovrebbe seguire l'inno di Mameli dovrebbe sostituirlo Bella Ciao ha un merito che nessun altro inno nazionale ha tantomeno l'inno di Mameli è mnemonica mani e piedi e spalle ti si muovono spontaneamente è facile da ricordare e sembra fatta apposta per essere cantata dalla massa anche dagli stranieri se la proposta di suonare e cantare l'inno di Mameli è Bella Ciao una dopo l'altra in visione mondiale il 25 aprile andrà in porto noi vedremo la massa degli ascoltatori agitarsi e partecipare e muovere le mani soprattutto quando comincerà Bella Ciao Bella Ciao è trascinante l'inno di Mameli è gelido cerebrale e astruso pochi di quelli che lo cantano sanno veramente cosa voglia dire e dov'è la vittoria le porga la chioma e un giorno in cui la banda dei carabinieri in alto uniforme seguiva l'inno tenendo il testo aperto e visibile sopra gli strumenti un giornale maligno fotografò la pagina aperta e tutti potemmo vedere che il testo diceva stringiamoci a corte invece che a corte come se noi non fossimo un popolo pronto a combattere e morire per la patria formando un cortile militare ma una cerchia di camerieri e servitori della corte di un padrone re che ci stipendia e ci mantiene va bene insomma ragazzi questo è il livello del dibattito uno vuole prega in ginocchio si umilia perché si è ritirata di giorno o di notte questa firma e questa proposta di legge l'altro addirittura vuole che lo si cambi al posto che lo si cambi al posto dell'inno nazionale che diventa proprio l'inno nazionale va bene voglio signorarvi sul riformista per rimanere a cose a borderline con la politica pagina due è un intervento di David Prati che parla di Mancini è un ottimo 007 abilo onesto quindi fucilatelo alla schiena breve storia di uno dei nostri migliori agenti dei servizi segresi Marco Mancini tra puntate di Redport sulla RAI un filmato preso per caso punto interrogativo poi la condanna decretata dal governo qual è l'accusa? assente quali sono le sue coppie precedenti? assenti i meriti? tanti e allora fucilatelo va bene è la prima puntata di una seconda che ci sarà la prossima non so se domani o nei prossimi giorni poi veniamo alla giustizia allora Panamara e rimaniamo sul riformista perché oggi è il giorno della verità ci dice il riformista a pagina 4 Panamara è il giorno del giudizio dentro o fuori la magistratura questa mattina davanti alle sezioni unite civili della Cassazione l'udienza sul ricorso presentato dall'ex Zad delle nomine contro la sua radiazione dall'ordine giudizionale tre le ipotesi possibili e Paolo Comi vedremo che cosa accadrà e sempre per rimanere in tema di giustizia sulla riforma della giustizia voglio segnalarvi la terza di l'insetto del ecco qua felici dell'azione parale perché è una buona riforma della giustizia del dovere assoluto di fronte la discrezionalità pubblico ministero commissione l'attanzi e quelle svolte necessarie è il mondo brutti liberati che fa un'intera pagina poi Mariana Rizzini nel taglio basso dice che Salvini passa la magistratura resta la versione di Staino pro referendum perché si è stressa a favore del referendum e va bene insomma questo lo trovate a proposito della riforma della giustizia sul foglio poi c'è anche da segnalare l'avvenire che a pagina nove nell'uovo CSM più consiglieri e parità di genere stretta sui fuori ruolo norme più restrittive anche per chi si candida in politica il ritorno in magistratura è consentito solo a determinate condizioni ora il baglio della ministra cartabia qui siamo ancora alla commissione poi c'è il baglio della ministra cartabia poi c'è il confronto con la maggioranza a questo proposito fosse anche le ultime cose che riesco a leggere c'è da segnalare l'editoriale di Angelo Panebianco sulla prima pagina del Corriere della Sera la giustizia e il difficile equilibrio scrive Panebianco è bastato l'annuncio che rende un moto onde altre che mi ha ci hanno salvato sui fragili equilibri della politica la raccoglie firme e dei referi radicali sull'attività appoggiati da non ancora a ma già inneschiamo limiti trasversali in parte ha contato la scelta dei tempi la magistratura non gode più del consenso incondizionato dell'opinione pubblica in parte ha contato e conta il metodo quella capacità di stabilire alleanze trasversali su specifiche battaglie politiche di grande rilievo che il Marco Pannella dei suoi di migliori ha lasciato in eredità eredicale saltiamo una parte andiamo a pagina 26 dove prosegue questo articolo di Galli della Loggia che la mette così sposando la campagna referendaria radicale Salvini ha fatto una mossa tatticamente molto abile costringerà l'intero centrodestra a subire la sua leadership in materia di rapporti tra politica e magistratura l'iniziativa radicale Lega inoltre funge da calamita per tutta la frammentatissima area centrista dettagliativo all'Udc al gruppo Bonino eccetera per giunta come si è già visto essa mette in grande difficoltà il partito democratico per quanto riguarda la Lega bisognerà capire se si tratta solo di tatticismo o se invece siamo in base di una cosa che si avvicina a una rinversione legge si va da classico non dobbiamo fare il gioco di all'altrettanto scontato la riforma della giustizia si deve fare in Parlamento come se in Parlamento nella stessa maggioranza che sorreggia il governo non ci fossero molti nemici della suddetta riforma come se i referendum non fossero come invece sono un utile strumento di pressione è la storia a spiegarci il perché di tale opposizione il PD e i suoi predecessori PC sinistra democristiana PDS DS sono sempre stati schierati con il partito dei procure anche se con qualche insofferenza ideologica da parte degli eredi togliati di coloro che come Massimo D'Alema credono nel primato della politica PD e predecessori non hanno mai rotto con il giustizialismo giudiziario per convenienza per garantirsi una salva condotta e perché anche se di tanto in tanto veniva colpito qualche loro esponente i colpi giudiziari più duri riguardavano comunque i loro avversari è un segno dei tempi in stade il fatto che forse la stagione del giustizialismo trionfante è ormai alle nostre spalle che iniziativa referendaria apre un conflitto all'interno del PD non si esagera se si dice che il futuro della democrazia italiana dipende da come verranno affrontati i modi della giustizia in primo luogo bisogna sapere che se il governo Draghi tra qualche mese cadrà con conseguenze imprevedibili esso quasi certamente cadrà proprio sulla questione giustizia è sulla riforma cartabia che presto o tardi si spaccheranno i 5 stelle dopodiché si tratterà di vedere se la loro fazione filo governativa sarà oppure no abbastanza numerosa da non far mancare al governo il sostegno parlamentare sorte del governo a parte si pensi che cosa potrebbe accadere quando si cominciano una spesa riportata immaginiamo il scenario di giuro quello che una convenzione di informativi confuse di eccessi di protettorismo in quel momento fiorino le inchieste e fiorino gli avvisi di garanzia gli arresti eccetera bloccando tutto poi facendo come spese si avviene dopo qualche anno la maggioranza degli inquidati verrebbe assolta nel frattempo l'Italia avrebbe però sprecato la più importante occasione di sviluppo che le sia mai capitata dai tempi del piano Marshall e si troverebbe nei guai è il non detto della politica italiana il tabù su cui quasi tutti glissano ci fu tempo la si chiamasse repubblica dei partiti oppure partitocrazia in cui la politica comandava i magistrati erano dominati e controllati ci fu poi con mani pulite un rovesciamento dei ruoli i magistrati occuparono il ponte di comando poterono farlo perché la corruzione politica aveva la precedenza superato il livello di guardia da allora viviamo in un regime di democrazia giudiziaria che ha assunto il controllo della politica rappresentativa la posta in libertà avvicinata e siamo passati da una condizione di squilibrio a una condizione di squilibrio di segno o di squilibrio di segno opposto entrambe le situazioni la partitocrazia prima la democrazia giudiziaria dopo hanno aspetti illiberali e autoritari ci saranno tensioni crescenti e durissime contrapposizioni ma se alla fine si ottenesse un ragionevole equilibrio una condizione in cui si siano salvaguardate tanto l'individenza delle strade tanto la politica positiva ecco che forse nascerebbe qualcosa di nuovo qualcosa di subito a una democrazia liberale così magistrale come edicale anche questo vi segnalo il riformista che mette in evidenza con Sassonetti che si torna a riparlare del processo di trattativa vogliono mettere in cella l'uomo che travolto che ha travolto la mafia perché al processo di Palermo è Piero Sassonetti che ce ne parla e poi fa l'editoriale e poi Tiziana Maiolo che ne parla nelle pagine interne per quanto riguarda il carcere vi voglio segnalare un'intervista alla ex ministra Severino nella pagina 19 del no scusatemi nella pagina sì 19 del messaggero importante perché i giovani hanno la legalità per riedificare il paese chiusa la quarta edizione del progetto LUIS che crea un ponte tra scuola e carcere minorile è interessante questa cosa se volete la trovate sul messaggero furi via che cosa succede che siccome si era trovato un GIP che per una volta si era opposto alla carcerite dei pubblici ministeri l'hanno fatto fuori praticamente ma Moltarone ha tolto il caso alla GIP che ha scarcerato due indagati Berbani a mossa del presidente del tribunale IPM revocate le sue ordinanze con un provvedimento che solleva una ridda di polemiche da parte dell'avvocatura il presidente del tribunale di Berbani Luigi Maria Montefusco toglie il fascico dalla giudice Donatella Banci Bonamici che ha svolto la funzione di GIP sul disastro della funivia del Montarone annullando il fermo di due o tre indagati va bene questo lo sappiamo e non sarà quindi più lei ma sarà un'altra insomma si usa il fatto che lei sostituiva poi è ma insomma tutti dicono che è una cosa chiaramente in base in me per un punto riguardo alla giustizia voglio permettere di evidenza dall'avvenire la pagina 5 ma c'è la pagina che parla su Cadella Sera ma si frotteiva i contributi non versati IPM di Pamo laboratori sfruttati in DHL è un'indagine che riguarda i lavoratori della DHL in Italia voglio segnalarvi a proposito invece di processi pagina 18 e 19 della stampa ci si occupa del processo Eternit ai tedeschi l'ex patron di Eternit ritorna alla sbarra vogliamo giustizia domani a Novara parte il processo bis contro lo svizzero Schmeidli non so come si chiama nel 2014 fu prescritto i familiari delle vittime di Casale non ci fermiamo così la stampa voglio a questo punto passare ad altri argomenti va beh intanto sul tema dei migranti vi segnalo che non c'è solo problema dei centri di accoglienza in Libia cosiddetti accoglienza ma anche in Italia prigionieri come in Libia la vergogna dei CPR italiani Andrea Palladino se ne occupa sul domani a pagina 4 poi venendo dalle cose tristi c'è Saman va bene è su tutti i giornali lo sapete insomma ci sono le dichiarazioni di il nebo l'uscita la romanza sono tutti e su cui voglio scelare due articoli uno che in è morto Merlo che era un cantante promettente che veniva da amici ce lo dice Corriere da Sera pagina pagina 20 se non erro la morte di Merlo stava male da giorni ci sono ombre ci sono troppe ombre il papà del cantante chiedo chiarezza l'ausa apre un'indagine insomma la fauna è stata rimandata a casa e non stava bene e poi è morto ma su questo voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 15 c'è Ermal Meta che scrive poche righe ma significative Michele è un ragazzo molto dolce dico è non era perché la grande ingannatrice lo ha rapito e lo ha portato da dolce ci sono grandi altre musica che avrebbe pensato adesso all'uomo adesso al fucile però credo che a questo hanno un respiro con il giovane spezza ad amici fu il bo lo sguardo che mi colpì aveva la luce e un brata di mirezza siamo arrivati a pensare che c'è il tempo giusto per morire ma non è mai il tempo giusto Michele non sarà non era Michele è così il malrestre sulla stampa e poi vi segnalo su tutti i giornali sembra si sia trovata una cura per l'Alzheimer quantomeno per rallentarlo segnalo il libro che si occupa meritevolmente di Chico Porti che è ancora carcerato in America per quanto riguarda la situazione di Alitalia potete andare sul messaggero a pagina 17 che è l'unico che se ne occupa vola il petrolio ce lo dice la Repubblica a pagina 20 e poi per quanto riguarda il petrolio va oltre i 70 dollari ma Big Oil non corre in borsa e poi per quanto riguarda la politica estera la questione di cui si era occupato Paolo Mieli sul Corriere della Sera degli afghani interpreti pare che si vada risolvendo sul Corriere della Sera a pagina 16 verranno in Italia quello che sta succedendo in Messico con le elezioni cioè non si capisce bene chi ha vinto lo trovate un po' su tutti i giornali ma anche in questo caso sul Corriere della Sera a pagina 17 poi Bezos lascia Amazon e se ne va nello spazio anche questo sta su diversi giornali arriva il segretario generale della Nato Stromberg che si occupa dei rapporti tra Cina e Russia ma anche del ruolo dell'Europa e dei rapporti con gli Stati Uniti con Biden Nord Corea segnale il messaggero a pagina 11 che dà una notizia obiettivamente allucinante ma siccome quello tutti dicono che è un pazzo non fa diciamo stupore Kim vieta jeans e film la punizione è la morte Nord Corea no a soppopera estere tagli dei capelli non convenzionali condotti individualiste e antisocialiste tra le condanne più levi i campi di lavoro questo è il Nord Corea e poi da ultimo il Myanmar è l'avvenire a pagina 4 la situazione è drammatica adesso si rispara anche nelle chiese Myanmar l'esercito punisce chi aiuta attaccata alla sesta chiesa in due settimane bene con questo chiudiamo la segna stampa di oggi mi scuso per il ritardo ma come la delista era molto complessa e consentitemi in chiusura di la segna stampa un ultimo caloroso abbraccio a Guglielmo Epifani e ai suoi cari e anche ovviamente a tutti i colleghi che in questo momento sicuramente saranno vivendo un momento molto difficile se volete ci vediamo domani alla stessa ora buona giornata speriamo puntuali e buona giornata a tutti